li fa venire fuori in modo che la ricerca sia rapida in modo che la ricerca sia rapida ok Ciao 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 ragazzi Bentrovati Bentornati Come state? Spero tutto molto bene A volte sarò corpita dai fasci di luce del mio proiettore che si trova sulla destra Ma tanto il risultato poi alla fine è estremamente rilassante Spero stiate tutti 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 Molto Molto Bene E mi scuso anticipatamente Mi scuso anticipatamente per qualche rumore di fondo Allora Videopack searching ASMR chiaramente Ovviamente di cosa parliamo E Mi era venuta voglia di portare questo video oggi Per rilassarvi Vi ricordo Che vi aspetto tutte le sere in live su Twitch A volte arrivo in live dopo le 22 O dopo le 23 O le 23 Però comunque sono tutte le sere in live sulla piattaforma viola Tranne qualche volta Tipo il sabato O giorni festa Però per il resto dell'anno Ci sono sempre Detto questo Spero di cuore Di Riuscire 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 a rilassarvi Anche Oggi Con Questo Questo Bag 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 searching Iniziamo subito A A Giorgare I Fermetti O I Bidocchetti Come vi piace Più Chiamarli Ma Mi servirò dello spray di questo spray un'acqua speciale che fa venire fuori tutti i vari vermetri li fa venire fuori in modo che la ricerca sia rapida uno spray speciale in realtà è solo acqua che andremo a spruzzare qui sopra sul fluffy mic proprio adesso spero di non aver bagnato la fotocamera forse si o forse no vedrei questo spray permette la fuoriuscita dei vermetti permette di farli farli venire diciamo a galla termine un po' più tecnico in superficie perché non stiamo al mal permette di farli uscire meglio allora i miei vicini hanno cominciato ragazzi stanno chiudendo il cancello ormai fate parte anche voi della mia routine sapete bene quali sono i rumori che mi circondano no? chiacchiere del vicino sbattere il cancello di fianco ma vabbè andiamo avanti e chiacchiere del vicino chiacchiere del vicino e chiacchiere del vicino 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 do, 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 do... loco, loco, loco loco, loco, loco Tuck, tuck, tuck Tuck, tuck, tuck Tuck, 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 tuck Tuck, 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 tuck Tuck, tuck, tuck ok 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 Sì 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 ok luk, luk, luk luk luk, luk, luk click 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 pura 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 typically rewrite ok 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 vabbè 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 l'abbiamo esaminato e tolto tutti 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 ma proprio tutti i vermetti dal FluffyMig spero di avervi rilassato noi ci diamo appuntamento al prossimo video rilassato ciao 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 ciao